La professoressa Teo di Passini, c'è il fine di questa scuola per me racconto, con la professoressa Cuschi, che è la mente, ho finito a poter trattare di quella che è una delle tematiche che quest'anno appunto va anche in ambito comunitario, i 60 anni dell'Europa Comunità. Ho visto che voi avete preparato alla perfezione del giusto che in un certo senso mi aiuta anche adesso nella presentazione con cui vorrei condurre in quella roba vaccinata. Ma prima di entrare nel video vorrei spiegare chi siamo e perché oggi siamo qui con voi. Io, il collega Nicolò che è seduto in sala e la professoressa Panetta, che è qui a presidenza, rappresentiamo un'aiuto brutale, un'aiuto brutale che non è altro che un ufficio di comunicazione della Commissione Europea che lavora sul territorio locale. Noi abbiamo sempre qui nella propria, il nostro ufficio di comunicazione in ambito territoriale. Il nostro compito è lavorare in questo territorio, quindi portare la voce della Commissione Europea sui territori. E soprattutto di lavorare con i giorni, quindi di oggi ci trovare proprio nell'ambito dove sono le nostre azioni da più lucro. Quindi di lavorare a spingere gli interessanti a questioni che avrebbero chiederemo l'Unione Europea, con quanto l'Europa fa sui cittadini e con quattro cittadini vorrebbero che l'Europa pagare gli accessenti per loro. Quindi è fondamentale il ruolo che questi centri di comunicazione hanno sul territorio anche per conseguire usare una voce di ritorno alla Commissione da parte dei territori. Bruxelles è l'Otano dove è il cuore, perché ha funzionali, ha esperti che lavorano su tutto il territorio e in attualmente nel posto stati membri. Ormai mi si è agendito a livello di cui stai si parla del 2017, perché tutto e per il gruppo le procedure per la Brexit, per quanto difficili sono iniziati. Sentivo stamattina, perché veniva qui in aula, che il Consiglio, sia il più di un dito, è proprio ieri, a quantieri, ha discusso con la Brexit, quindi quelle che saranno anche le procedure, a più che nel 2019, la cittadina da Asci, l'Unione Europea che si ha scelto per fare il popolare. Saranno processioni difficili, i stati di governo hanno prometto che non saranno fatti sconti all'Unterra, perché in ogni caso questa uscita, nel quanto prevista dal Stato di Dispola, comporterà una reazione di tutta una serie di paraceli, non per molti due nevologi che vengono in Europa a decidere i suoi territori. Quindi noi stessi, come di fronte, rispondiamo un barco, diciamo prima, quest'anno andiamo a per nuovo, quindi nel 2018 iniziamo quello che doveva essere il nuovo impegno, perché a causa della Brexit il nostro barco è arrivato in triennale e non in penale, quindi noi scalderemo il 2020 e non come era previsto nel 2022. Quindi questo comporta anche per le nostre azioni di lavoro sul territorio, una vera situazione moderna di quelli che erano trovati in vista, proprio di quella che sarà una nuova organizzazione territoriale nel mondo dell'Europa del 27. Quindi l'uscita di uno Stato membro non è priva di conseguenze, anche sul lavoro degli uffici territoriali dell'Europa. Figuriamoci in ambito di situazioni internazionali, di trattamento del campo economico, sociale e organizzativo. Tra l'altro ieri, e questa è una notizia che ci arriverà anche per la discussione, l'Unione Europea, normalmente varata dal resto, che è la politica di sicurezza comune che praticamente era da anni in programmazione e che proprio nel corso del 26.60 nei mercati di Roma aveva assunto un ruolo prioritario nelle discussioni tra gli Stati membri e nelle relazioni di Roma per un marzo scorso. Proprio qui è che per entrare in gestione dei Stati, sono stati stati imparati per questa nuova politica che vedrà l'Europa poesa, quando non è un'azione di difese esterna al suo territorio.